Buonasera e benvenuti a questa puntata speciale di Aquilani, cronaca di una ricostruzione. Dall'ambiente capirete che non siamo nello studio di L'Acultivu, ma siamo nel showroom creation vetrina di Massimo Cotellessa che ci ha messo a disposizione questo set per ospitare l'unico ospite di oggi che è il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che oltre a rispondere alle nostre domande risponderà anche alle domande che i cittadini dell'Aquila hanno rivolto al sindaco, al primo cittadino, inserendo dei bigliettini in questa cassetta postale che voi vedrete, ma subito dopo la sigla che Sergio Marzola sta per mettere in onda. Grazie a tutti! Eccoci qui, allora benvenuto Pierluigi Biondi, buonasera Carlo, comodamente seduto nel trono di Babbo Natale, solo per un giorno, tu sei seduto su altri troni, sul trono della città ormai da sei anni abbondanti, cinque anni e mezzo, cinque anni abbondanti governi questa città e vedremo con quali risultati. Da dove partiamo? Partiamo dalle letterine dei… Partiamo dal ringraziare la famiglia Codell'Essereci ospita, lo faccio anch'io. L'avrei fatto alla fine, certamente, e ringrazierei anche Teresa e Annalisa che sono due splendide signorine che danno colore a questa… un po' smorto in Arsetti, questo… no, c'è poco colore qua dentro. Dove? Qui dentro. Qui dentro, appunto, già ce n'è tantissimo, loro non fanno che arricchire questa atmosfera. Bene, grazie a tutti. Brillano nonostante il colore. Brillano nonostante il colore. Si notano nonostante tutti questi colori. E beh, sì, insomma, c'è da dire che sono due bellissime signorine, quindi facciamo i complimenti e anche i ringraziamenti per averci sopportato fino ad oggi. Allora direi, fatti i doverosi ringraziamenti, direi di passare a qualcosa di più inerente, la nostra… l'Aquila. Partiamo dai bigliettini che hai alla tua destra o invece dalle domande che… Tu comandi. Che anch'io mi sono preparato una schialetta… Un po' e un po'. Ah, allora, partiamo dal… tu hai partecipato qualche giorno fa ai festeggiamenti del decimo anniversario del tuo partito. Naturalmente c'era una atmosfera di grande allegria, contentezza perché, insomma, governate il tuo partito che, lo ricordo, è Fratelli d'Italia, governa questa nazione oltre alla regione e alla città dell'Aquila. Tu hai partecipato a questi tre giorni. Tre giorni. Tre giorni di festeggiamenti. Poi parliamo anche di altri festeggiamenti, quelli del terremoto, del sisma, perché una settimana fa si è tenuto un convegno molto interessante al quale ha partecipato anche il ministro Musumeci per la protezione civile, dove, insomma, si è parlato dello stato della ricostruzione. Però partiamo da questo. Partiamo da Roma e da quello che è stato il tuo intervento dove hai detto che praticamente l'Aquila diventa un modello di best practice, non solo per la ricostruzione, ma anche per il modello di gestione della città. Beh, in realtà non ho detto proprio questo perché mi sarei... Che non ci vedo, non ho portato gli occhiali, però, insomma, questo è il senso. In realtà non è stata neanche una tre giorni di festeggiamento. È stato, sì, un anniversario importante perché Fratelli d'Italia è stato fondato giusto dieci anni fa, quando nessuno ci credeva, c'erano pochissime persone, le possibilità di riuscita erano davvero minime e invece quel movimento, grazie al supporto di quella che è stata chiamata la Generazione Arreio, che però poi è stata supportata anche da alcuni volti noti della politica autorevoli, penso a Ignazio la Russa, Guido Grosetto, su tutti, Fabio Rampelli, eccetera. Diciamo che mi hanno portato un partito ad essere, come l'ha definito qualcuno, il più novecentesco dei partiti attuali, perché ha una struttura molto vecchio stile, diciamo così, fatta di sezioni, coordinamenti, di organismi dirigenti, di segretari provinciali, regionali, nazionali, naturalmente, il Presidente, ed è stato un momento di riflessione, sicuramente un consuntivo di questi dieci anni, ma anche i buoni propositi della destra del governo. Ma dieci anni fa non avreste mai aspettato che avreste avuto questa opportunità di governare una nazione in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo? Sinceramente non in questi termini, però c'era una frase di Guglielmo il Taciturno che diceva, la parafraso, non c'è la necessità della certezza, dell'approdo per iniziare l'impresa. Così come è vero anche che non c'è mare tranquillo per chi non naviga. E quindi noi ci siamo messi in mare, avevamo delle idee molto chiare, le abbiamo perseguiti, abbiamo passato a momenti molto difficili, perché poco dopo la fondazione Fratelli d'Italia ci furono le prime elezioni, Fratelli d'Italia rientrò in Parlamento grazie al fatto che era il partito che più si avvicinava allo sbarramento non raggiungendolo, perché la prima percentuale fu di 1,96, poi ci fu il mancato raggiungimento del quorum alle europee, quindi Giorgia Melloni l'ha raccontato spesso, ha detto che se non ci fosse stato il quorum alle europee del 2019, perché non parliamo, ci ha messo più tempo Fratelli d'Italia a passare dal 2 al 6% che dal 6 alle cifre attuali, al 25, i sondaggi danno anche sopra il 30, e disse Giorgia Melloni se non superiamo la soglia di sbarramento alle europee io mi dimetto, quelle europee invece portarono un risultato molto importante perché si superò il 6% e da allora credo che un percorso fatto di coerenza, di militanza, di rapporto con il territorio è stato premiato, naturalmente arriveranno anche momenti difficili, non ci saranno le file fuori di gazebo, non ci sarà questo tripudio di gente, lì bisognerà tenere fede alla promessa di una politica fatta di… Una delle misure previste nella legge di bilancio è la riduzione del numero dei percettori di il reddito di cittadinanza che ha fatto molto discutere come pure ha fatto discutere il fatto di non aver investito molti soldi in favore delle persone in difficoltà, c'è qualcuno che ha detto che questa è una manovra rivolta più che altro a tutelare i ricchi piuttosto che invece andare in favore delle persone che non ce la fanno. Ma direi proprio di no, è una manovra innanzitutto molto equilibrata, è una manovra fatta in una congiuntura economica difficilissima e nonostante le poche risorse a disposizione, considerando che gran parte della parte libera del bilancio è stata immestita per contenere il caro energia e quindi per sostenere gli sforzi delle famiglie e del tessuto produttivo italiano è stata fatta una manovra che da un lato incrementa le pensioni, che non parametrizza le pensioni delle persone più ricche, che introduce un'aliquota agevolata innalzando il limite con una sorta di flat tax in partenza, sostiene molto gli sforzi degli enti locali e taglia anche una parte di tasse. Tutto non si può fare, lo ha detto Giorgia Meloni, hanno detto i ministri del suo governo che questo è un patto di legislatura, siccome negli anni siamo stati abituati ai governi balneari, cioè quelli che nascevano sulla base di alleanze forzate... Per esempio c'è un governo che si propone di arrivare... È un governo legittimato dal voto popolare, governato da una coalizione che è partita insieme sin dalla fase preelettorale, è un governo politico, non è un governo tecnico e quindi le premesse per durare cinque anni ci sono tutte. Rispondimi sull'RDC, sul reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza, allora il reddito... Quanti sono all'Aquila i percettori di reddito? Non lo so, non ho questo dato. Credo che il reddito di cittadinanza... Una volta c'era qualcuno che lavorava pure per il comune? Non credo, non credo che ci siano possibilità di percettori di reddito di cittadinanza che hanno anche il reddito al lavoro dipendente. Non lo so, magari... No, che lavora... cioè, come lavoratori socialmente utili? Ah, no, no, noi non abbiamo ancora attivato i PUC si chiamano. Ecco, ma perché? Perché stiamo ragionando su progetti precisi, perché poi la persona che viene a lavorare per il comune non è semplicemente, come si dice, lo mette a tagliare l'erba. Ha bisogno di un'assicurazione, ha bisogno del vestiario, ha bisogno della formazione. Si può fare, bisogna verificare che la cosa non sia anti-economica rispetto alle necessità del comune. Dicevo, il reddito di cittadinanza, sostenere le persone che non ce la fanno è un obbligo morale di uno Stato. Il problema è che siccome non stampiamo denaro, cioè il denaro disponibile è limitato, pensare di sostenere magari un giovanotto che sta dentro casa, che non studia, non lavora ed è in grado di lavorare, significa toglierli alla vedova che non percepisce la reversibilità, significa toglierlo alla mamma che magari non lavora per accudire il figlio di sabbe, significa togliere risorse a chi ne ha veramente bisogno. Quindi il reddito di cittadinanza non è stato eliminato, è stato rimodulato e quindi il reddito di cittadinanza deve andare solamente a coloro che effettivamente non sono in grado di lavorare. Prendiamo una, vedi, alla tua destra c'è quella cassettina mail box, aprilo, ci sono dei bigliettini, non si apre, prova a girare quella maniglia, ecco, ecco, molto di quello che sembrava, ci sono dei bigliettini, prendine uno a casaccio, vediamo che dice. Caro sindaco, r.i.commercianti, non so che significa, ah, caro sindaco dei commercianti, parcheggi con strisce gialle, non riusciamo più a parcheggiare. Ecco, allora questi sono i problemi, questi sono tutti i problemi cittadini, problemi reali. Le strisce gialle sono le strisce per i residenti, da non confondere. Con i commercianti, però anche i commercianti lavorano in centro e quindi hanno difficoltà no, no, le strisce gialle sono per i residenti, sono per i residenti, è evidente che va rivisto il sistema del parcheggio in centro all'Aquila, ci stiamo lavorando, bisogna reintrodurre progressivamente, io questo l'ho detto all'inizio del mio mandato, infatti ne abbiamo parlato più volte di questo, bisogna reintrodurre le strisce blu, abbiamo fatto un censimento di tutti i parcheggi, abbiamo oltre 4.500 parcheggi in centro o in prossimità del centro, pensiamo di trasformare 3.000 e 1.500 di questi stagli a pagamento, questo che significa che si crea più rotazione, cioè il cittadino che viene per lavoro in centro non necessariamente deve parcheggiare a 20 metri dal suo posto di lavoro, un tempo la gente parcheggiava alla Villa Comunale o alla Fontana Luminosa. Non è facile nemmeno trovare il parcheggio lì. I parcheggi relativamente alla gente che arriva in centro ci sono, in realtà è che se ne fa un uso errato rispetto alle città che attraggono gente nei centri storici e quindi la reintroduzione delle strisce blu servirà per, oltre che per fare cassa, ma quello servirà a remunerare chi farà l'attività di vigilanza, servono a garantire una maggiore rotazione sui parcheggi, ad incentivare l'utilizzo dei parcheggi, l'intermodalità, quindi con parcheggi di scambio a partire dal mega parcheggio, quindi con l'utilizzo parcheggio e navetta gratuita, ricordo, sia parcheggio. Che navetta serve a garantire che negli orari, negli orari clou, se uno gira per l'Aquila dalle 9 a luna o dalle 3 alle 7 di sera, noterà che magari non si trovano parcheggi, ma ci sono molti parcheggi riservati ai residenti che sono liberi, perché il residente esce per andare a lavorare e quindi bisogna... Quindi c'è anche l'esigenza di nuovi parcheggi. Bisogna riorganizzare... Quelli che ci sono, come hai detto, sono un numero abbastanza esiguo, visto il parco auto... No, no, ho detto il contrario, sono 4.500 i parcheggi per l'Aquila, per l'Aquila... Quelli al momento esistenti. Al momento esistenti. Evidentemente non sono sufficienti, perché se c'è questa carenza, questa seta di parcheggi... No, ho detto un'altra cosa, che i parcheggi riservati ai residenti, negli orari di punta, quando la gente ha minore possibilità di trovare parcheggio, i parcheggi per i residenti sono liberi, ma non si possono occupare. Quindi il numero dei parcheggi potrebbe anche essere sufficiente, vanno riorganizzati, così come il megaparcheggio viene utilizzato ancora per un terzo della sua potenzialità. Sì, perché è scomodo poi, per il megaparcheggio, essendo ancora ferma la scala... C'è una navetta gratuita che parte ogni 10 minuti dal megaparcheggio. Ogni 20 minuti. Ogni 10 minuti parte. Io l'ho preso una volta, ho aspettato più... Per il periodo festivo, però comunque in tutte le città che attraggono gente, non credo che esista una città in Italia che ha un parcheggio da 700 posti a 10 minuti dal centro, a piedi... Non ci sono città che hanno proprio i parcheggi sotto la piazza centrale. Ma non gratuiti. No, non gratuiti. Poi bisogna salire sulle scale mobili, salire... Mobili che funzionano, scale mobili che funzionano. Che funzionano all'aperto, però, in genere. Quindi, insomma, diciamo che l'Aquila ha questo privilegio, che uno può arrivare, parcheggia il megaparcheggio, prende la navetta gratuita e arriva in centro. Oppure, se è una bella giornata, si fa una passeggiata di 10 minuti. Poi c'è il parcheggio di San Bernardino. Poi c'è il parcheggio di Portaleoni. Di Portaleoni. Parliamo di 100 posti auto, comunque, non è la soluzione di tutti i problemi in questa prima fase. In realtà bisogna ripensare anche la gestione della mobilità nella nostra città. Non si può pensare di parcheggiare nelle vie più importanti. Sicuramente non si può più consentire il transito nelle vie risistemate, riqualificate o ripavimentate. Questo è un luogo dove, io non ricordo mai, sono passate delle auto. Adesso le auto passano perché i cittadini aquilani si sono un po' disabituati alle regole di una città. Bisogna tornare progressivamente a quelle regole. Prendiamo un altro biglietto, vediamo che cosa ci dice l'anonimo visitatore di Creation Vetrina. Sindaco, riparare le buche su via Miternum. Forse questa è la lettera dell'anno scorso perché su via Miternum abbiamo fatto i lavori. No, evidentemente si riferisce a dopo via Miternum. Via Leonardo da Vinci noi abbiamo detto, con le risorse che avevamo abbiamo fatto i due lotti che erano le strade più ammalorate. Abbiamo fatto via Miternum, poi abbiamo fatto via della comunità europea. Abbiamo fatto le gare per gli accordi quadro su altre risorse che abbiamo e potremmo togliere le rotaie e ripavimentare anche l'area di via Leonardo da Vinci. Anche questo è un discorso annoso, questo di togliere le rotaie. Se l'abbiamo iniziato in piena campagna elettorale, poi si è fermato. No, abbiamo fatto i lavori regolarmente. Però ci sono altre rotaie ancora da rimuovere. C'è il pezzo di via Leonardo da Vinci perché non era finanziato. Quindi parcheggi e buche, vediamo che cosa ti dicono i telespettatori e i cittadini. Caro sindaco, sono un abitante via Miternum verso la regione, asfalto per i buche. Anche quello. Quindi questi sono i problemi che sentono. Ne prendiamo un atto perché forse è il marito della... Io ne ho dato un'occhiata, sono molto simili. Perché evidentemente i problemi più sentiti sono questi, i problemi di tutti i giorni. Allora, sono un commerciante del corso stretto, qualche notizia per i lavori, abbiamo già sofferto con la chiusura del corso. Consapevole che bisogna fare la pavimentazione, finalmente, ma noi, chi ci pensa. Ah, ecco. Anche lì è... La pavimentazione del corso stretto. Il corso stretto. Sarà fatta così come abbiamo fatto... Allora, diciamo che c'è stata prima, c'erano stati i lavori per la pavimentazione del corso principale. Sì. Perché sono stati inaugurati l'ottimati, inaugurati il 7 di dicembre. Il 7 di dicembre. Adesso si tratta di fare altri lotti, quello fino alla Fontana Luminosa e fino alla Villa. E poi c'è la piazza. Sì, la piazza però è un altro appalto, un altro lavoro. Un altro appalto. Allora, vediamo il più vicino di lavoro, quale sarebbe? Corso stretto? Sì, sì, perché questo è già... Sono altri lotti della gara già giudicata. I commercianti si preoccupano, se voi mettete il cantiere qua il corso già è stretto. Allora, già abbiamo rinviato i lavori per non farli in estate, per garantire la stagione ai commercianti del corso largo. Chiamiamolo così, dei portici. Per quanto riguarda il corso stretto faremo esattamente lo stesso discorso, abbiamo fatto i commercianti dei portici. Faremo perlotti, garantiremo l'accessibilità, si lavorerà di notte. Quindi come funziona? A pezzetti? Allora, si lavorerà di notte con un cemento particolare, verrà fatto un massetto che si consolida immediatamente. Dopodiché, fatto il massetto, si riapre la strada, quindi c'è il percorso assicurato, gli accessi ai negozi. Dopodiché, la notte si fa un pezzo di pavimentazione, la mattina dopo si riapre e poi si fa l'altro pezzo. Lavoraggio, insomma, una cosa amicidiana. Beh, sì, però se si pensa anche alla pavimentazione dei portici, abbiamo fatto così. Prima è stata fatta la parte centrale del massetto, poi abbiamo fatto le parti laterali, sempre in alcuni casi con i doppi turni. Poi sono stati fatti gli accessi a tutti i negozi. E lo stesso accadrà poi per la parte invece fino alla villa comunale. Sì, alla villa comunale, diciamo, sarà una lavorazione molto più simile a quella che abbiamo fatto al tratto dei portici. Questo sì, effettivamente è più complesso, ma l'organizzazione del cantiere è già assicurata, ne abbiamo parlato a lungo, anche con la ditta. E poi quando sarà complesso? Sa lavorare. Piazza Duomo? Fine anno prossimo? Metà anno prossimo? Piazza Duomo dobbiamo ancora aggiudicare i lavori. La commissione sta lavorando, ha quasi ultimato le attività, se non addirittura ha ultimato e sta chiedendo la documentazione a verifica, diciamo, della rispondenza ai requisiti. Quindi Piazza Duomo partirà anche lì in due lotti. Saranno due fasi, quella dell'ellissi, diciamo, laterale e quella della parte centrale, anche in quel caso per garantire la praticabilità. Sempre con le stesse lastre di pietra bianca. Adesso non ricordo esattamente, però comunque, siccome sono tutte cose fatte in accordo con la sovrintendenza, ci sarà un'unitarietà dell'intervento, insomma, che si lega anche a Piazza Regina Margherita, a Largo Tunisia. Palazzo Margherita, invece, quando tornerà ad essere la sede del Comune e del Consiglio Comune? Allora, a Palazzo Margherita bisogna ultimare delle lavorazioni, in particolar modo c'era necessità di montare una scala, c'era un problema, diciamo, di gestione proprio del cantiere. Ci sono stati dei ritardi nella fornitura di alcune materie prime dovute alla crisi russo-ucraina. Di forniture materie prime. Io ho detto chiaramente al RUP che non mi è stato richiesto, ho detto che non bisognava concedere in alcun modo delle proroghe e quindi spero che entro la primavera facciano tutto. Poi invece il discorso a sé riguarda la torre di Palazzo. Sulla torre stiamo lavorando, abbiamo... No, non state lavorando. No, stiamo lavorando per il reperimento delle risorse, perché rispetto al progetto originario, quando è stata svuotata la torre, si è... che la torre era piena di derriti fino a una quota di circa 3 metri, si è visto un quadro fessurativo molto... Importante. ...compleo e importante. Era più danneggiata di quello che si pensasse. Quindi è stato deciso di stralciare quel pezzo. Abbiamo un progetto esecutivo che vale 3 milioni di euro. Stiamo lavorando insieme al vicesindaco e al dirigente a trovare le risorse. Forse ci siamo quasi, forse fra una ventina di giorni potremmo dare buone notizie pure su 3 milioni di euro che servono per la torre. Un ultimo, per questa prima parte incompiuta, è il ponte di Belvedere. Il ponte di Belvedere? Sta diventando un po' una spina nel fianco. Il ponte di Belvedere non è un incompiuto. Le incompiute sono le opere che iniziano e poi si fermano perché non ci sono i soldi. Beh sì, questo è fermo. No, non è ferma. È alla validazione del progetto, la società di verifica del progetto. Però l'ultima volta che ci siamo sentiti il progetto si dovrebbe validare entro il 30 novembre. Sì, e poi viene verificato, poi se il progetto sta a tutto a posto viene validato. Se il progetto non sta a tutto a posto vengono chieste delle integrazioni. La stessa cosa, siccome è la prima volta che si... Quindi non sta a tutto a posto il progetto? Sì, sì, dovevano fare le integrazioni che sono state fornite. Sicuramente il fatto qual è? E' che noi abbiamo seguito questa strada perché questo consente di saltare il passaggio al genio civile. Cioè la verifica riguarda anche l'aspetto strutturale, diciamo sismico, se vogliamo definirla così, semplificando. E quindi questa cosa richiede un po' di tempo. Però un conto è un progetto che ha preso dei tempi che magari si sono dilatati. Un altro conto, l'incompiute sono le opere che vengono chiuse perché non ci sono più soldi e rimangono così vita natural durata. Quindi quasi non ci sono, non sarà un'incompiuta. Quindi si può fare una previsione non ottimistica, realistica. Io dico sempre che non faccio mai previsioni perché non ho la palla di vetro, perché poi esistono gli intoppi a livello burocratico, dei autorizzativi, dei pareri, eccetera. Il Ponte Belvedere è un'opera che nessuno ci aveva mai pensato. Noi ci abbiamo pensato, abbiamo trovato le risorse, ci stiamo lavorando. Il Ponte Belvedere sarà montato e sarà bello così come l'abbiamo visto. Invece noi possiamo prevedere che ci dobbiamo fermare per due minuti di pubblicità e che ci vediamo subito dopo la pausa. Seconda parte di Aquilani, sempre insieme a Pierluigi Biondi, nel showroom di Creation Vetrina, dove il Natale qui è di casa. Questa è una puntata dedicata al Natale, l'ultima puntata del 2022 di Aquilani, tredicesimo anno, sono tredici anni che questa trasmissione va avanti ogni settimana per raccontarvi la ricostruzione. Allora, prima il sindaco ha letto alcuni biglietti che i cittadini gli hanno lasciato in questa cassetta postale. Vogliamo seguitare con questo gioco per Luigi? Prendiamo un'altra a Casaccio, così diciamo che ci rappresenta un po' uno spunto di conversazione con il... Una lettera... Più che una lettera è un trattato, però... È una lettera per Babbo Natale quella? Sì, un Babbo Natale paziente. Sì, allora leggo velocemente... Vabbè, a pezzi naturalmente. Caro signor sindaco, si avvicina il Natale, è tempo di esprimere i desideri. Mi domando cosa posso chiedere a Babbo Natale come cittadina aquilana. Lei, signor sindaco, è una persona molto importante e potente. Insomma, a lei sicuramente Babbo Natale darebbe ascolto e sono sicuro accoglierebbe tutte le sue richieste. Allora, per favore, gli chieda scuole nuove per questa città, scuole belle, moderne, funzionali e sicure. Poi gli chieda per favore i parcheggi per il centro storico perché i cittadini aquilani ed anche i turisti non sanno più dove lasciare l'auto e spesso rinunciano a fermarsi in centro per fare gli acquisti. Dica poi a Babbo Natale che i giovani che vivono in questa meravigliosa città hanno bisogno di punti di aggregazione, socialità. È veramente triste e sconfortante vederli ciondolare con la bottiglia di birra in mano lungo la scalinata e porci San Bernardino. A proposito... Ci fermiamo qui? Ci sono i contenitori porta immondizia, vabbè, varie cose, il teatro, il cinema, eccetera. Vabbè, rispondiamo a questa prima paginetta. Allora... I parcheggi ne abbiamo già parlati. I parcheggi ne abbiamo già parlati, però io continuo a dire che dobbiamo evitare i luoghi comuni. Non è vero che la gente non viene in centro e i turisti non si fermano. Un turista che viene in centro e viene all'Aquila, perché prende la macchina e si gira? E il fatto che in questi giorni sia traboccante di gente la città dell'Aquila e la testimonianza che quando c'è molta gente bisogna adeguarsi alle condizioni in cui siamo. Quindi, parcheggi abbiamo detto, allora, scuole nuove, scuole nuove, noi abbiamo un piano, abbiamo un piano, sono partiti i cantieri di molte scuole cittadine, in alcuni casi sono già a buon punto anche le costruzioni. Mancano un pezzo delle scuole cittadine, ma non dipende da noi, dipende dal fatto che noi è un anno e mezzo circa che lavoriamo al piano delle scuole. E per un anno e mezzo, diciamo, le strutture sovracomunali ci rimbalzano a struttura di missione, il ministero. Finalmente con il ministero dell'istruzione abbiamo trovato un accordo, il nuovo piano delle scuole è pronto, c'erano delle cose illogiche che noi abbiamo dovuto far cambiare. Il nuovo piano delle scuole è pronto, andrà in CIPES, penso, tra la fine dell'anno e gennaio, adesso vediamo una delle prime riunioni del comitato interministeriale, e quindi avremo anche queste risorse che servono per far partire i cantieri, ma su queste scuole che devono andare ancora al comitato abbiamo già tutti i progetti pronti, quindi non si tratta altro che di fare le gare. Poi un'altra cosa, la questione dei giovani che hanno bisogno di punti di aggregazione e di socialità. Allora, noi abbiamo investito oltre 15 milioni di euro sull'impiantistica sportiva, stiamo facendo molti lavori, in questi giorni si chiuderà anche la gara per l'ampliamento del Palangeli, è l'ultima gara sull'impiantistica sportiva. Siamo intervenuti sul Fattori, interverremo su Acquasanta, su Piazza Darmi, su Centicolella, solo per citare... Su Verdeacqua? Su Verdeacqua, ci sarà la pista coperta, stiamo affidando la gestione del complesso, invece quello che è stato chiuso. Abbiamo, siamo intervenuti sui campi sportivi da Preturo a San Gregorio, il campo di calcio di Paganica, il campo da rugby di Paganica. San Gregorio, siamo andati... Non è vero che non ci sono punti di aggregazione, ma i giovani mica solo a calcio? I giovani fanno sport, fanno attività sociali, stiamo intervenendo su... I giovani vanno anche nelle palestre, vanno anche nelle biblioteche, nelle pinacoteche, sono i giovani. Vanno, pinacoteche non ce ne sono mai state all'Aquila, però ci potrebbero essere. Certo, vorrebbe esserci tutto, nel mare vorrebbe esserci tutto, forse anche quello, vediamo, in un futuro magari lo vorremmo... Vi state attrezzando. Lo vorremmo chiedere, ci sono oggi dei luoghi dove si può studiare, penso all'Aulo Studio del DSU, a San Basilio, il vecchio ospedale San Salvatore, oppure nelle pressi delle università, dei centri universitari. E poi c'è il vecchio ospedale di San Francesco, l'ospedale voluto da San Giovanni da Capestrani. Sì, l'ex di Amicis, che sarà anche quello, un luogo di aggregazione, però noi dobbiamo stare attenti al giustificazionismo. Cioè non si può dire che alcuni sporcano, buttano la roba per terra, si ubriacano perché mancano luoghi di socialità. In alcuni casi è vero, ma l'Aquila non è una città... Forse manca un po' più di controllo. L'Aquila non è una città... ma neanche la questione del controllo, perché altrimenti staremmo in uno stato di polizia. Ma no, non è vero. L'Aquila è una città che non è una periferia di una grande metropoli. Nessuna città al mondo come Londra può essere classificata come una città di polizia. Londra è la città più democratica del mondo, però c'è un bobbia ad ogni angolo. Ora io non dico di mettere un bobbia ad ogni angolo. Questo non è un luogo comune. È un luogo comune. Sono stato a Londra, non ho visto bobbia ad ogni angolo. Non ci sono. Con le cupole. Queste sono in menzione, diciamo... Non sono cose reali. Però io non dico di mettere un bobbia ad ogni angolo. A città come Londra ci dovrebbero stare centomila poliziotti per gestirla tutta. Non credo che ci siano centomila poliziotti. Ce ne sono tantissimi. Lo Stato deve essere presente. La sera, la notte, lo Stato qui non è presente. L'Aquila è una città sicura. Lo dimostrano le statistiche dei reati e delle denunce. I controlli ci sono anche di notte perché fa il servizio la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri. La polizia c'ha due pattuglie, i carabinieri. L'Aquila è una città sicura. E questo lo dicono tutti i numeri. Non si può continuare a dire a una città fuori controllo perché se no si fa un torto a questa città. E alla gente che lavora per assicurare, scusatemi il gioco di parole, per assicurare la sicurezza dei cittadini. Che l'Aquila è una città tranquilla, forse, proprio perché tranquilla alcuni episodi ci sembrano più. Pure questa vicenda della movida violenta. Ma sono sempre, per fortuna, una minoranza di giovani che sono violenta. Il problema è un altro. Non si può parlare, se tre persone ubriache fanno casino in un locale, non è la movida violenta. Sono tre persone ubriache che fanno casino in un locale. Che vengono prese, acciuffate, identificate, addirittura messe nelle camere di sicurezza. Quindi non è che qui c'è un quartiere di una grande metropoli fuori controllo, non siamo nelle baglie parigine. Allora, siccome l'Aquila è una città sicura, dobbiamo iniziare ad insegnare ai nostri giovani, a partire dal sottoscritto che è un genitore e quindi lo deve spiegare ai propri genitori, che non è che se non c'è un cestino porta rifiuti, il rifiuto si può gettare per terra. Ah, giustissimo. Così come uno dentro casa, se trova il bagno di casa occupato, non è che fai bisogni al salone o in cucina. Non si possono... Questa cosa mi piace. Andiamo avanti, andiamo a dire con i letterini. Non ci sono i bagni pubblici, tu sei in un locale, ti metti in fila al locale, attendi il tuo turno e vai al bagno. Così come la carta, la sigaretta o la gomma americana te la diverti a casa. La lattina di birra o di coca cola che hai bevuto. Non c'è un cestino, te la porti dietro, fai 50 metri perché ci sono cestini ogni 50 metri nella città dell'Aquila, dai portici alla piazza. No, e poi i cestini debordano. E vengono puliti. E vengono puliti. Sì, ma il giorno dopo. Vengono raccolti, vengono raccolti secondo dei turni. Non tutto si può avere, andiamo avanti. Così come se il cestino è pieno, non si butta la roba in un cestino pieno. Tu hai dentro casa tua, se hai il secchio dell'immondizia pieno, ci butti una cosa che cade per terra. No, così dovremmo fare la nostra città. Vediamo un'altra pagina se c'è qualche spunto interessante. No, questa è la prima che mi sembra che tu l'abbia già detta. L'immondizia, sì, il decoro è frequentato da turisti e guardavano a libidi i rifiuti lasciati a terra. L'abbiamo detto. Riportare una bella sala cinematografica in centro, sarebbe bello riavere il cinema massimo. Beh, sarebbe bello, ma non credo che sia... Le sale cinematografiche vengono gestite dai privati, quindi se c'è convenienza a gestire una sala cinematografica... Ormai non si apre più un cinema con una sola sala di proiezione. Faccio un esempio, l'imperiale è ristrutturato, l'ex imperiale, così come l'Olimpia, così come l'ex rex, sono stati trasformati in altre cose. Però il teatro, insomma, il teatro si potrebbe riavere. Il teatro invece è un'altra cosa che viene pure richiamata. Da qui il teatro, la gestione dell'appalto del teatro, ma questo non vuole essere uno scaricare responsabilità, è in mano al segretariato regionale per i beni culturali. La stazione appaltante di quel bene di proprietà comunale è un soggetto esterno al comune, è il segretariato. È il segretariato che sta gestendo tutte le fasi. C'è necessità di ulteriori risorse, il nuovo segretario, insomma, Cristina Collettini è sovrintendente già da un po', molto meritoriamente si sta interessando per trovare le risorse per concludere i lavori. Ne fatti e quindi sì, sarebbe bello. Per il momento ci godiamo comunque delle stagioni teatrali che fanno sold out. Quindi non è che non c'è il teatro comunale e non si fa teatro all'Aquila. Si fa il ridotto, addirittura da quest'anno, oltre ad aver triplicato le recite, prima se ne facevano due, e anche gli abbonamenti è un grandissimo incremento. Siamo passati alla terza giornata, abbiamo addirittura raddoppiato con la Standing Up Comedy che inizierà adesso a breve all'auditorium. Certo, è normale, sarebbe molto bello avere un teatro, pure a me piacerebbe avere una macchina da 100.000 euro e la villa in Sardegna, però, c'ho la casa Villa Sant'Angelo e la 500. 500, fai avanti con qui. E poi fermo qui e poi parla di nuovo del ponte di Belvedere. Ah ora lei e la sua famiglia un sereno Natale che ricambio. Ricambiamo, andiamo avanti con un altro bigliettino. Tendiamo un altro. Non credo che ce la facciamo a leggerli tutti. No, non credo. Allora, caro sindaco, visto il momento di crisi ambientale e il caro energetico proporrei di spegnere tutte le fontane pubbliche a mezzanotte fino all'alba. Che c'entra? Le fontane, forse si riferisce all'acqua. Crisi ambientale e di caro energetico spegnere tutte le fontane pubbliche. L'unica fontana attiva è la fontana luminosa, ma quella viene, l'acqua viene riciclata. No, forse le fontane pubbliche si riferisce alle fontane pubbliche. Eh ma le fontane pubbliche non vanno a corrente. No, per lo spreco dell'acqua. Ah sì. Lo so, non ho detto questa. In alcune sono state messe le saracinesche, però le altre... Andiamo avanti velocemente perché abbiamo ancora dieci minuti, mi sembra, è vero Sergio? Allora, parcheggi in centro. In parcheggi ne abbiamo già parlato. Ok, parcheggi in centro abbiamo detto. Se c'è qualche insulto, qualche cosa, leggila lo stesso, non ti astenere. Si può ripristinare il megaparcheggio con Le Maggio? Sarebbe una cosa utile per la città e per tutta l'economia. Esiste. Sì. No, forse si riferiva al tapirulano. La prossima settimana faremo la conferenza stampa per la consegna dei lavori. Questi biglietti forse ti possono essere utili per capire quelli che sono i bisogni reali. Parcheggi in centro. Però prima all'acqua non si parcheggia, sono stessi in centro. Allora, Sindaco, dopo 13 anni siamo ancora in attesa della prima casa. Le frazioni sono abbandonate. Anche questa mi sembra un'affermazione abbastanza generica. Bisognerebbe dire qual è... Beh, insomma, le frazioni... Io fino a qualche tempo fa abitavo in una frazione. Non è che siano, insomma, tenute... Non si vede una macchina dell'ASM nemmeno a pagare la... Ma non è vero questa? Beh, sì, io ho abitato in una frazione. E non è mai visto una macchina... Chi la viene a ritirare l'immondizia? No, non a ritirare l'immondizia. Lo spazzamento. A spazzare le strade. C'è un piano di spazzamento che riguarda tutta la città. E quindi con la frequenza possibile passa. Allora, mi sembra che ieri sia stato approvato il bilancio di previsione dell'ASM. Ah, finiamo qua? No, vabbè, poi possiamo riprendere. Vabbè, hai aperto quello, vai. Bisogna togliere le rotaglie che con il ghiaccio si scivola. Già detto. Ma la stessa grafia, credo che abbia lasciato più di un bigliettino. Addirittura ricordi la grafia di quella che ha scritto prima. Per favore, parcheggi per i residenti. Anche questa è la stessa di prima. Per il signore questa è un'altra grafia. Per favore, parcheggi. Sono ossessionali dai parcheggi. In quanto studenti fuori sede chiediamo degli autobus se ci permette di raggiungere agevolmente il CUS e di tornare in centro. Inoltre, per poter godere la natura circostanze, gradiremmo delle navette per le località di montagna. Purtroppo il trasporto pubblico locale si paga, costa tanto. Il Comune dell'Aquila è messa sul trasporto pubblico locale una cifra intorno ai 4 milioni di euro. E' la cifra più alta di gran lunga che spendono le città capoluogo di provincia dell'Abruzzo. Assicuriamo un servizio per quanto possibile efficiente. Poi naturalmente bisogna fare i corti con la vastità del territorio e con una pluralità di esigenze che non sempre si possono mettere tutte insieme. Vediamo un po'. L'ASM, mi sembra che sia stato approvato il bilancio ieri, il 20. Il bilancio consultivo. Di previsione. Non credo il bilancio previsione. Comunque tu hai detto, parlando della raccolta dei rifiuti, che c'è qualcosa di politicamente poco chiaro che riguarda la destinazione dei rifiuti a Sulmona, la discarica di Sulmona. Di Noce Mattei, sì. Noce Mattei, perché? Perché, allora, il comune dell'Aquila, quando io mi sono insediato, già scaricava a Noce Mattei la discarica di proprietà del Coggesa. Intanto spieghiamo perché i rifiuti si portano a Sulmona. Non si possono gestire qui all'Aquila. Non c'è una discarica. Ecco, perché, appunto, perché non c'è la discarica? Perché non è stata fatta. Però si può farlo. Ormai sono passati... Ormai... Da quando è stata chiusa la Kona? La Kona. No, ma ormai il sistema di trattamento dei rifiuti è totalmente diverso all'epoca della Kona. Prima la produzione dei rifiuti era scarsa e il rifiuto veniva smaltito in maniera indifferenziata. Tutto, cioè nel senso che veniva preso e buttato in un buco. Perché? Perché c'erano pochissimi imballaggi, cioè carta verro, plastica, erano molto meno frequenti di oggi. E l'organico era molto inferiore, lo spreco di cibo e non solo, l'utilizzo in modalità alternative, tipo dargli da mangiare agli animali. E quindi le discariche duravano all'infinito. Dopodiché è subentrata una normativa che invece prevedeva un certo tipo di modalità di gestione delle discariche. All'Aquila ci fu la vicenda di Montemanicola per cui non fu fatta una nuova discarica. Oggi il rifiuto viene trattato meccanicamente, viene separata la frazione organica da quella secca. La frazione organica va negli impianti di compostaggio e quindi poi diventa un compost, un biofertilizzante, eccetera. La frazione secca, quella che non può essere in alcun modo né riciclata, viene buttata, viene interrata, viene messa in un buco. Che viene gestito in un certo modo naturalmente. E questo buco sta a Sulmona. Non è l'unico della regione Abruzzo, però sta a Sulmona. E che cosa succede? Noi li smaltivamo già da prima che mi insediassi io. Nel 2017, quando io mi sono insediato ed ero in scadenza il contratto per smaltire i rifiuti, si pose un problema. Le società totale capitale pubblico, tipo il Coggesa, hanno l'obbligo per mantenere, per avere gli affidamenti diretti senza cara, di rispondere a tre requisiti. Essere appunto società totale capitale pubblico. Consentire ai soci di esercitare un controllo analogo sull'attività dell'azienda. Terza cosa, avere la prevalenza. Che significa la prevalenza? Che almeno l'80% del bilancio deve essere dedicato ad attività fatte in favore dai soci. Che succedeva? L'Aquila non essendo socio, insieme ad altri privati, con il conferimento e con i soldi che dava a Coggesa, faceva salire la quota percentuale superiore, sopra il 20% del privato. E quindi che formula abbiamo trovato? Che ASM è diventata socia del Coggesa. E quindi di fatto ASM, essendo un socio, scarica senza andare ad intaccare la quota del 20%. Abbiamo sottoscritto un contratto, che è in scadenza il 31-12-2022, sulle cifre che ci sono state indicate da Coggesa. In corso d'opera alcuni sindaci soci hanno chiesto che ASM versasse più soldi perché la gestione del rifiuto era diventata più onerosa. Adesso in tutte le civiltà, se tu firmi un contratto, e se quel contratto è regolare, i patti e le condizioni sono quelle stabilite in quel contratto. Cioè se tu fai un abbonamento a... Ti fai rifornire di energia elettrica da un gestore che ti dice tu l'energia elettrica pagherai 10 euro a megawatt. E a un certo punto quel gestore ti dice sentisi come sono cambiate le condizioni. Adesso quel tuo contratto invece 10 euro tu me lo paghi 15. Beh, se hai un contratto aperto... Tu dici se il contratto prevede io ti devo pagare 10, fino alla scadenza del contratto io ti pago 10. Dopodiché il giorno dopo, quando andiamo a ricontrattare le condizioni, mi dici quali sono le tariffe adeguate. Noi abbiamo detto... Siamo a disposizione. Qualcuno invece, credo sobbillato da pseudo giornalisti, che addirittura questa mattina hanno scritto su un giornalaccio online che l'Aquila con la giustificazione del terremoto ha drenato risorse infinite e non ne ha mai reso conto, che è una cosa indecente, sobbillate da queste cose una politica che evidentemente è abbastanza miope, pensa che per fare una lotta tra campanili a cui io non mi presterò mai, dice ASM non scarica più a Sulmona. Bene, ASM non scarica a Sulmona, andrà a scaricare da un'altra parte. Magari avrà dei costi aggiuntivi, magari li dovremo coprire con il bilancio. Ma vero è che quella società, senza i soldi dell'Aquila e dei cittadini aquilani, è una società che non si regge. Certo, perché il socio che dà maggiorità tra 2 milioni e mezzo e 3 milioni di euro e quella società senza i 2 milioni e mezzo dell'Aquila va in fallimento. E io ho detto, rifletteteci, prima di mandare in fallimento il comune dell'Aquila e ASM non falliscono. Quella società probabilmente sì. Ho detto, prima di mandare in fallimento la vostra società, che voi siete i soci fondatori, noi siamo subentrati dopo, rifletteteci bene, ma lo dico per il loro bene. Abbiamo quasi finito il tempo a disposizione. Ho ancora un mucchio di domande anche da parte dei cittadini, però ne riesco a fartene leggere solo una. Però prima di queste vorrevo sentire da te, visto che questa è l'ultima puntata di Aquilani dell'anno 2022, che cosa ti auguri per il prossimo anno e soprattutto che cosa pensi che ci sia dietro di Rolangolo, che ci sta aspettando dall'altra parte del calendario? Io sono portato per mia natura ad essere fiducioso, ad essere ottimista, perché credo che questa città abbia in sé gli anticorpi per superare qualsiasi prova. Ci siamo detti chissà se ci rialzeremo dopo il terremoto e l'abbiamo fatto. Ci siamo detti chissà se ce la faremo dopo il Covid e ce l'abbiamo fatta. Oggi ci interroghiamo che cosa ne sarà di noi dopo, speriamo, presto, la fine del conflitto, che si sta consumando in Ucraina, io credo che anche alla fine di quel conflitto noi ne usciremo rafforzati. Mi auguro che il 2023 sia migliore degli ultimi anni che abbiamo passato. Questo ci lo auguriamo tutti, anche se poi rimaniamo sempre delusi. Fare peggio è abbastanza difficile, insomma, significherebbe, però siccome siamo abituati ormai, un po' a tutto, mi auguro che sia, diciamo, può sembrare una banalità, ma le difficoltà, le marginalità, le povertà si stanno ampliando, paradossalmente. È una società sempre più benestante, ma sempre meno giusta. Cioè, la ricchezza è sempre più elevata, ma questa distribuzione è mal distribuita. È mal distribuita perché negli anni abbiamo avuto politiche che hanno attaccato prepotentemente il ceto medio e il ceto medio oggi è diventato il ceto basso. Cioè, abbiamo attaccato il potere d'acquisto, abbiamo attaccato i salari, non li abbiamo adeguati, non abbiamo adeguato gli stipendi, la finanza sempre di più sopravanzato, l'economia reale. Cioè, oggi guadagna più soldi uno che magari da un computer è bravo a giocare in borsa che un commerciante, un artigiano che si alza la mattina e lavora a 12 ore. Considerando che da un lato l'economia reale, dall'altro lato è speculazione, è quasi una lotteria. E quindi, queste, siccome le politiche degli stati, dell'Europa, occidentali in generale o a livello globale non sono stati in grado di contenere il sopravvanzare della finanza rispetto all'economia, si è creato una, diciamo, si sono acuite le differenze. Come si dice, si è allargata la forbice. Si è allargata la forbice, per cui oggi anche una famiglia con due dipendenti pubblici, se non ha una casa di proprietà e magari paga un mutuo, se ha un figlio con una difficoltà o che studia all'università o che deve fare l'apparecchio, che deve eseguire delle cure particolari o semplicemente che vuole fare sport, uno sport magari un po' più costoso, si trova in grosse difficoltà. La speranza è che, appunto, anche sulla base dell'avvio di questo nuovo governo, che, diciamo, nelle intenzioni, dice di voler ricalibrare questa, l'economia, che possa, in un patto di legislatura, a partire dal 2023, rendere la nostra società più giusta, più equa, più gravità di opportunità, soprattutto per i giovani. Per i nostri ragazzi, ci penso spesso, ai ragazzi, soprattutto alla generazione figlia del terremoto, che potrebbe, iniziare a riconquistare la città, ma che non può farlo, perché ci sono delle condizioni a margine che glielo impediscono. Finiamo col terremoto, perché questa trasmissione si chiama cronaca di una ricostruzione, quindi non possiamo tenerne conto. Allora, inizio di trasmissione, dicevamo che si è tenuto questo convegno, importante, un libro bianco della ricostruzione, un momento autocelebrativo, dove una festa della ricostruzione, dove ognuno ha detto che ha dato il massimo, abbiamo fatto bene, le nostre buone pratiche saranno sicuramente da esempio anche per gli altri terremoti, per le altre ricostruzioni, è così. abbiamo detto che non che noi abbiamo fatto bene e che le nostre buone pratiche e che siamo un modello in sé, abbiamo detto che all'Aquila si è fatta la più grande sperimentazione di ricostruzione dal dopoguerra ad oggi, in maniera così complessa e così articolata e così problematica. E quindi abbiamo detto è stato un errore pensare che si potessero fare altre ricostruzioni e ce ne sono state, ahimè, ce ne sono ahimè in corso più di una senza tener conto di quello che è stato fatto all'Aquila. Non è stato un momento autocelebrativo, non lo definirei così, semplicemente è stato presentato questo libro che è molto tecnico, non è un romanzo, non è un saggio, è un insieme di dati, numeri, considerazioni, eccetera, per dire noi abbiamo fatto questo e consegniamo a chi si occupa di prendere le decisioni oggi di farne tesoro nel bene e nel male, replicando le buone pratiche e sostituendo le pratiche che non sono state buone. Io chiudo con una lettera di un cittadino che ci è arrivata qualche ora fa, nella ricostruzione aquilana accade anche questo, che il progettista imbarba al diritto civile e dalle più elementari regole di correttezza e di ontologia professionale, cagioni in un unico appartamento i seguenti danni, riduzione degli spazi interni a vantaggio dell'ascensore condominiale, sovradimensionato rispetto a quanto previsto dalla normativa veggente, inserimento di caveidi che non erano previsti e che non erano presenti ante terremoto, scomparsa di un ripostiglio esterno, collocamento di pompe di calore condominiali nel giardino di proprietà esclusiva, realizzazione di intercapedini al di sotto dei giardini e così via, insomma una serie di, posso andare avanti ma non abbiamo più tempo di lamentare, ce n'è per tutti i gusti, anche questa è ricostruzione, stanno succedendo molte cose nella ricostruzione dell'Aquila che insomma sarebbe meglio non farle succedere e per non farle succedere c'è solo un metodo, controllare, aumentare il livello dei controlli, anche ieri, nei giorni scorsi è stato presentato un libro di Palamara, Lobby e Logge, dove l'ex magistrato Palamara diceva proprio questo, bisogna controllare, bisogna elevare, alzare il livello dei controlli perché si creino queste vessazioni, queste malversazioni e noi siamo convinti che nella ricostruzione dell'Aquila c'è bisogno di più controlli. Il cittadino dovrebbe innanzitutto controllare quello che accade dentro casa sua. Ma magari il cittadino non ha la possibilità di dialogare con il tecnico, con il presidente del condominio. ci sono le assemblee, ci sono le assemblee di consorzio, vengono eletti questi presidenti di consorzio, ma sono scelti sulla base di un albo. Il cittadino deve controllare, se sente che i suoi diritti sono lesi, fa ricorso agli strumenti. Oppure si rivolge alla Procura della Repubblica. Esatto, agli strumenti della magistratura. Grazie per Luigi Biondi. Grazie a voi. Buon Natale. Tanti auguri. Buon Natale. Buon Natale a te. Naturalmente alla redazione, a tutte le persone che sono dall'altro lato della telecamera. A particolare Sergio Marzola che ci sta curando l'energia, tutta la squadra di la QTV. E naturalmente alle Aquilane e agli Aquilani. Io ringrazio Fabrizio Capannolo per la consulenza al Palinsesto, Massimo Cotellessa di Creation Vetrine e a voi tutti per averci seguito in questi 13 anni di Aquilani. Ci rivedremo all'inizio del 14esimo anno. Grazie per Luigi Biondi. Grazie a voi. Grazie a voi tutti e buon Natale. Ciao. Grazie a voi. e buon Natale. Grazie a tutti.